Guido, io vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vascelle che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Si che fortuna o d'altro tempo riglio non ci potesse dare impedimento, anzi vivendo sempre in un talento di stare insieme crescesse il desiglio e monna vanna e monna l'agia poi con quella che sul numero delle trenta con noi ponesse il buono incantatore e quivi ragionar sempre d'amore e ciascuna di l'or fosse contenta come io credo che saremmo noi. Se io fossi quelli che d'amor fu degno del qual non trovo sol che rimembranza e la donna tenesse altra semiglianza assai mi piaceria si fatto legno e tu che sei dell'amoroso regno la onde di marzè nasce speranza riguarda se il mio spirito ha pesanza compresta arcer di lui ha fatto segno e tragge l'arco che li tese amore si lietamente che la sua persona par che di gioco porti signoria. Or odi maraviglia che il disia lo spirito fedito li perdona vedendo che gli strugge il suo valore.